Ciao sono Coco! Mamma desu! Ciao! Pranzo desu! Unagi anguina! Unagi molto caro. Ma quest'anno meno. Di solito tipo 30 euro così. Ma quest'anno è 20 euro. Tee verde. E anche acqua. Per scarodare abbiamo messo acqua e tee verde. Così caro? Vogliamo mangiare bene. Pronto! Noi riso. Sempre suggerato. Appena cotto metto suggerato. Non frigo. Così sempre più buono. Non cambia profumo. Salsa di unagi. È molto buono. E poi questa parte è sancho. Spezia giapponese. Aguro dolce. Salsa di unagi. Molto speciale. Non si può preparare a casa. Salsa di unagi. 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 Non si può preparare. Salsa di unagi. Si prendi unagi. L'argo. Pranzo desu. Giàn! Zuppa di miso. Pomodori. Espinazza alla japonese. O hidashi. Cipolla In salata di cipolla Su no mono di aruga, mozuku e yamai mo Poi, unagi donburi Itadakimasu Oggi, unagi donburi Anguilla 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 in Giappone Molto caro Però questo modo di cucinare Grigliata Un po' aguro dolce Buonissimo Giapponesi amano Questo tipo Unico modo di cucinare anguilla in Giappone Unagi 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 donburi Unagi Unagi Nonagi Minge Unagi U嘛 Uman il e si i cibo acieto balsamico per mangiare in salata io mangiocon e ponsù riso 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 carboidrati meglio mangiare dopo per salute per bellezza per esempio? prima cosa succeda quindi per l'occurso per evitare diabeti riso per l'occurso c'è la punta Meno problema rispetto al giapponese. Giapponese è molto facile di diventare diabete Dobbiamo fare attenzione Non c'è 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 Insalata Cruda Spinacci abolito al giapponese Velocemente Quindi se noi mangiassimo come italiani mattina brioche, pomeriggio focaccia, così possiamo diventare Se mangiassimo come italiani mattina brioche, pomeriggio focaccia e poi spaghetti non possiamo essere saluti 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 Non possiamo essere saluti Non possiamo essere saluti Sina mano Questa non è pasta Yama imo, tariato, sottile, sottile come pasta Mio preferito, non si vuole Questo l'abbiamo imparato dal ristorante professionale di Kaiseki Dove si va? E un lagi aline sottile, sottile come pasta E un lagi aline Gino si dopen Unagi donburi! Questo tipo di piatto si chiama donburi. Noi non mangiamo molto riso, però così, ogni tanto mangiamo. Perché unagi senza riso è troppo salato. Se poi sta troppo bene con un riso bianco. Unagi donburi. Anche questo è bello, non? In cinenni. Anche questo è bello, non? Anche questo è bello. Anguilla, per il giapponese, è l'energia. Quindi quando facciamo caldo, mangiamo anguilla e poi teniamo, dire. Questa è bello, però carissimo. Mangiamo una volta, due volte. insieme. Pagliatò di questo. Questa è bella. Pagliatò di questo, con questo. Pagliatò di questo. Pagliatò di questo. Pagliatò di questo, come vedete il problema degli altri. Pagliatò di questo, come vedete il caso. Appia Amma Amiamo UNAGI Piudi Sushi Troppo buono Oicì 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 Ocì Ocì non posso fare a casa quindi vendono già fatto quindi quando torniamo a casa dobbiamo scaldare quando scaldiamo si scaldano con non solo acqua con tè verde diventa più buono ha detto il produttore di unagi quindi è vero non è inventato noi al prossimo video ciao ciao ciao